Venerdì abbiamo completato le vaccinazioni delle aziende aderenti ad AER. Abbiamo aderito a una sollecitazione da parte dell'UCCP del Reventino, diretta dal dottor Franco Esposito e ha coinvolto le aziende che aderiscono ad AER e l'associazione degli imprenditori del Reventino e abbiamo ritenuto opportuno aderire a questa iniziativa. Avevamo già di fatto definito l'accordo con Confindustria regionale per attivare le vaccinazioni. Riteniamo che sia stato utile aderire alla vaccinazione prima per adempiere a quello che è un dovere che ritengo che sia un dovere istituzionale, quello di procedere alla vaccinazione del più alto numero di persone per far sì che si possa eventualmente raggiungere l'immunità e peraltro ottenere anche e stimolare anche lo spirito di emulazione alla vaccinazione dell'intero territorio. Oggi di fatto l'area del Reventino possiamo ritenere che sia un'area, perlomeno dal punto di vista delle attività produttive, un'area che si è spinta verso l'adesione alle vaccinazioni. Questo ci dà sicuramente stimolo e ancora una volta ribadisce che l'area è di fatto un'area che ha qualità di servizi, può offrire servizi pari a quelli di un'area metropolitana. Quindi riteniamo che vivere, tra virgolette, nelle periferie dei perimetri urbani non deteriori la qualità della vita sia delle persone sia delle attività che vi operano. La vaccinazione è stata resa possibile grazie alla struttura dell'UCCP, alla sua organizzazione. Questo fa sì che il servizio sanitario in un'area interna sia assolutamente indispensabile. La speranza è che i servizi sanitari che possono attivarsi nella riattivazione dell'ospedale di Soveria possa essere velocemente, questa riattivazione possa eseguirsi velocemente e possa essere effettuata nel più breve tempo possibile perché diventa indispensabile per il bene dell'intera comunità che vive l'area del Reventino. Grazie a tutti!